Iniziamo ora col descrivere l'istituto tecnico-tecnologico, indirizzo, informatica e telecomunicazione. Questo percorso si pone l'obiettivo di trasmetterti le competenze necessarie per operare nell'ambito di avanzati sistemi informatici e di telecomunicazione. È separato in due articolazioni abbastanza diverse tra di loro, l'articolazione di informatica e l'articolazione di telecomunicazione. L'obiettivo dell'articolazione di informatica è quello di realizzare programmi per qualsiasi tipo di esigenza, utilizzando diversi linguaggi di alto livello, ad esempio C++, Java, JavaScript, HTML, PHP, SQL, per poter operare nell'ambito di progettazione web, basi di dati ed applicazioni dedicate. Rispetto all'articolazione di informatica, orientata ovviamente verso il software, l'articolazione delle comunicazioni verte la sua attenzione verso l'hardware. Il tuo obiettivo è infatti analizzare, progettare e installare dispositivi e sistemi elettronici e di telecomunicazione. In particolare, agire a 360 gradi nell'ambito di videosorveglianza, controllo e gestione di dispositivi remoti, telefonia, rete in fibra ottica e wireless. A questo punto facciamoci un giro all'interno dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Indirizzo Informatica e Telecomunicazione. Autore dei sottotitoli 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 e Telecomunicazione. Grazie per la visione